Ieri domenica 16 settembre Mazzarino ha festeggiato la Madonna del Mazzaro, patrona della cittadina. I festeggiamenti ricorrono la terza domenica di settembre. La festa è preceduta da una novena o novenario di preparazione ai festeggiamenti. Per l'intera giornata della domenica la Basilica Santuario è meta di devoti che vanno ad assistere alle celebrazioni eucaristiche. La sera, dopo la messa vespertina, si assiste alla processione della statua di Maria Santissima del Mazzaro per le vie della città, portata a spalla dai membri della confraternita, figli di Maria Santissima del Mazzaro. Inoltre, il pomeriggio della festa, prima della messa vespertina, si assiste alla processione detta Processione della Madonna d'Umanna Reggia. Quest'ultima si lega ad una tradizione antica che risalirebbe a più di cento anni fa, quando le famiglie allutto e le vedove non potevano uscire di casa per fare le loro offerte alla Madonna, che accompagnata da cavalli, muli, somari, passava da queste abitazioni attraversando le vie della città per consentire alle donne di fare doni in natura, ricavati dal dono della terra, grano, mandorle, fave e così via. La statua linea della Madonna del Mazzaro, portata in processione, è stata commissionata dal Comitato della Festa Patronale per evitare di danneggiare in processione la preziosa icona dipinta sul legno, stile greco-bizzantino, è ritrovata nel 1125 in un bosco, dentro a un sotterraneo, nel luogo dove oggi sorge l'attuale santuario di Maria Santissima del Mazzaro, raffigurante la Madonna delle Grazie affiancata dalle due martiri siciliane, Agata e Lucia. La statua attuale è di scuola palermitana e fu terminata nel 1874, lo stesso anno arrivò a Mazzarino.